Le informazioni di Volkov confermano i nostri peggiori timori. Perseus ha rubato l'ordigno nucleare da Berlino-Est. Non ne siamo ancora sicuri. Affatto, ne sono certo. C'erano coordinati in codice tra i documenti nucleari di Volkov. È una regione disabitata nella Repubblica Sovietica d'Ucraina. Un aereo spia ha rivelato questo. Voglio sapere quello che succede in questo edificio. Serviranno anche gli altri. Woods e Mason ci raggiungeranno da chi è? Bell, tu farai squadra con Woods. Io e Mason aspetteremo l'estrazione. Park ha le comunicazioni. Non sappiamo quanto siano numerosi o preparati. Quindi se dovete ingaggiare, fatelo con attenzione. E' ora di sbirciare dietro la cortina di ferro. C'è calma piatta sui canali nemici. Via libera Woods. Ricevuto, Park. Resta in ascolto. Tieni in attesa Mason e Adler. Andiamo. Bell, dobbiamo muoverci. La base è oltre il prossimo crinale. Entrate, scoprite il più possibile e uscite. Merda. Park, volevo restare un po'. Guarda il gulag. Prima dobbiamo scoprire cosa ha in mente Perseus. Guarda quel mostro. Bissà cosa ci tratteremo ai russi. Scatta una foto. La comanda interesserà. Bell, la fotocamera. La base. Ci servono foto della base. Bene. E' ora di sporcarci le mani. Guardi in alto. Guardi in basso. Scegli l'obiettivo. Scegli l'obiettivo. Metti via la fotocamera. Altri due fuori dal futuro. Cazzo. Vai avanti e scendi per il pendio. Io ti copro le spalle. Fotografa qualsiasi cosa ti sembra importante. Mappe e progetti. Tutto quello che trovi. Cerca bene. Entra nella base. Tutto quello che trovi è. Avanti. Io ti seguo e disattivo l'allarme principale. Ti copro io. Merda. Una pattuglia sta venendo qui. Bella. Trova il modo di entrare. Io ti raggiungo. Io ti seguo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Preparati, potrebbe esserci un esercito di russi dall'altra parte. Coprimi. Neanche una parola, Bella. Che cazzo è questo posto? È un percorso della Spetsnaz, fatto come una tipica città americana. Scatta una foto, Bella. Nacchinaio i buoi uccidini! Merda, stanno iniziando. Cazzo, muoviamoci! Se vogliono un'esercitazione realistica, gliela daremo. Vengono da questa parte. Non spariamo per primi, ci vedranno. Mi sembrava in copertura, Calico! già rinunciate ... ... ... ... ... A presto! A presto! Non possiamo fermarci! Mi muovo! A presto! A presto! Contatto! Sui tetti! Non dovevo chiedere! Non dovevo chiedere! Non dovevo chiedere! A presto! Non vipera! Non vipera lascia! Non ci vediamo! Vogliamo essere amici? In movimento! Muoversi! Ne ho beccato uno! A voi se la forza ce l'avevo! Non ciò! Capito il caio! Bene, raggiungiamo quella torre di controllo! Il nemico si muove! Il nemico si muove per rinocchiarsi! La nata in arrivo! Vedi la torre di controllo! Mi muovo! Muoversi! Vai verso la torre di controllo! Il nemico si muove per rinocchiarsi! Granata! Contatto! Quello lì sembra tosto! L'acqua è un'esercita! L'acqua è un'esercita! Il nemico si muove per rinocchiarsi! Ah! Cade! Il nemico si muove per rinocchiarsi! Il nemico si muove per rinocchiarsi! Sembra incazzata! Tu dici che è incazzata! Il nemico si muove per rinocchiarsi! Bell vai a quel terminale! Inizia a curiosare! Benvenuto nell'archivio analitico bellico del popolo sovietico! Operazione Greenlight! Accesso limitato! Che cazzo è l'operazione Greenlight? Puoi violare quella roba! Ovviamente c'è una password! Guarda in giro! Gli rossi non sono molto svegli! Forse c'è qualcosa sulla scrivania! Accesso limitato! Non lo so, cazzo! Continua a cercare! Bene! Inizia a cercare! E' confermato! E' stata rubata da Berlino! E' una risorsa Greenlight! E' una delle nostre! Se si venisse a sapere! Non lo saprà nessuno! Eppure Indy Adler! Troppo rischioso! A dir poco! Stiamo parlando di una testata americana nascosta sotto Berlino! Sì! Sì! E' una copia! Non ha alcun senso! Per Perseus si è infiltrato in un programma atomico della CIA! L'operazione Greenlight! Gestito da Hudson! La testata rubata è americana! E Hudson lo sa bene! Merda! Dobbiamo andare! Non ci credo cazzo! Mark! Rispondi! Hudson ci ha mentito! Ci ha mentito cazzo! Buzzetti! Che cosa stai parlando? Sto parlando di Greenlight! E' un obiettivo di Perseus! E Hudson c'è dentro fino al collo! Buzzetti sto perdendo! Dovete andarvene da lì! Merda! Un corazzato ci prende! E' un bel faccio di periparo! Pagg vosi piac completa questa Allù? E' un appena! Ecco bene! Cura con questo! Winti! Embrate troppo! E' a continu Hua! E' un appena divino! Qui? L'appenaity! E' costante! E' un pass percorso! E' un pass percorso! E' un pass percorso! Di fronte! Si muovono! Escono allo scoperto! Non si muovono. Solo peccato! Non si muovono! No peccato! Merda, mi serve copertura! Lo riparo! Muoversi! Lutz, Bell, come siete messi? Ancora peggio di prima! Assicurati che Adler e Mason siano pronti al punto di estrazione! Ma che cazzo! Va bene, Baruch! In movimento! Dobbiamo raggiungere quell'uscita! Quei bastardi bloccano l'uscita! Dobbiamo sfondare il blocco! Ricorda! Non bisogna ne capire! Non bisogna ne capire! Non bisogna ne capire! E il nemico si trova! Ma che cazzo! Ricorda, mira alla scuola! Ricorda, mira alla scuola! È successivo, attimopsa! Prendляется attore più alto sul pilota! Continuous! Figare alla chiaraan amm niche, Non c'è la copertura, capo! Che la data! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rutz, Bell, come siete messi? Riunisci tutti i park, tutta la squadra. Hudson dovrà spiegarci parecchie cose.